E anche quest'oggi non ci siamo fatti mancare assolutamente niente, niente, niente. Problemi di prestazione, problemi di sfiga, problemi di incompetenza. Ma andiamo con ordine. Belgian GP. Allora, allora. I due contendenti al titolo partono dal fondo, partono dal fondo. Lieve differenza, lieve differenza di prestazioni che portano Verstappen nel giro di 10 giri ad essere a podio e nel giro di 14-15 giri ad essere in testa. In realtà erano 18, ma se consideriamo che ci sono stati anche tre giri di safety car, questo fa capire perfettamente la differenza abissale di prestazione che c'era oggi tra Red Bull e Ferrari. La Red Bull ha umiliato, perché il termine giusto è umiliato, la Ferrari con qualsiasi tipo di gomma, sia con le gomme rosse che con le gomme gialle. Ci ha tirato una legnata, un'umiliazione veramente, veramente pazzesca. Parliamo di più o meno un secondo al giro. Ed è terribile, perché se negli altri GP il problema fondamentale era l'incompetenza e qualche piccola dose di sfiga, qui il dominio Red Bull è stato veramente pazzesco. È stato veramente pazzesco, è stato umiliante ed è stato soprattutto preoccupante. Preoccupante perché? Perché un secondo al giro è tanto. Un secondo al giro è tanto, considerando che il nostro avversario partiva in 14esima posizione, ragazzi, non essere riusciti a vincere con un pilota che partiva in pole è veramente brutta. È veramente brutta, è veramente brutta. Poi, seconda componente, seconda componente. Seconda componente è sfiga, ragazzi, perché non si può dire che non abbiamo avuto sfiga. Questa volta bisogna spezzare una lancia nei confronti della Ferrari perché è una visera a strappo, ok? Che si incastra tra la pinza del freno e il disco, bruciacchiando e facendo fumo, inducendo il pilota ad entrare ai box convinto di aver spaccato tutto, è qualcosa di veramente sfigato. Consideriamo che ogni pilota ha a disposizione 10 visiere a strappo, ok? Che può usare durante tutta la gara. Erano passati, sieno, due o tre giri. Quindi la probabilità, la probabilità, che una visiera a strappo di quelle staccate, che probabilmente in tre giri quante ne avranno staccate? Ne avranno staccate in tutto, 5 o 6, tra tutti i piloti in pista, venga tirata su dalla macchina di Leclerc e si incastri proprio tra il freno, tra il disco e la pinza. Ragazzi, questa è sfiga. Questa è sfiga, ma anche sfiga della peggior specie, stile sorteggi gironi di Champions. Cioè questa è una sfiga abnorme. Questa è una sfiga abnorme. Oltretutto è anche una sfiga che non si può prevedere, perché non è un errore del pilota, non è una componente della macchina, anche se piccola, che si rompe. Questo è proprio un elemento esterno che entra all'interno della macchina. E' come in autostrada prendere un sasso che ti spacca il vetro, con la differenza che un sasso che ti spacca il vetro ti capita una volta ogni due anni, ogni tre anni, una visiera a strappo delle 5 che probabilmente c'erano in pista che ti si incastra tra il freno, tra la pinza e il disco, veramente è proprio sfiga mortale. E questo ovviamente un po' ha condizionato la gara, perché ha costretto Leclerc a fare un pit stop anticipato. Allora, parliamoci chiaro, non sarebbe cambiato un cazzo, non sarebbe cambiato un cazzo perché indipendentemente dalla visiera la gara era persa in partenza, perché io quando ho visto Verstappen nel giro di dieci giri trovarsi già in terza posizione con un ritmo tale, ho detto no, no, qua non ce n'è. Oggi non ce n'è per nessuno, oggi non ce n'è assolutamente per nessuno. Poi, ultimo elemento, sempre per non farci mancare niente, la solita perla di incompetenza del muretto Ferrari, perché a quanto pare se almeno non fanno una puttanata ogni gran premio non sono contenti. Questi praticamente hanno chiamato Leclerc ai box per cambiargli le gomme a un giro dalla fine per fare il giro veloce. Non solo non hanno fatto il giro veloce, ma hanno preso anche 5 secondi di penalità per eccessiva velocità ai box. E su questo uno può anche dire, ok, è colpa di Leclerc, perché ha inserito il limitatore nel momento sbagliato, ma io la colpa la do al team, perché se già vedi che il tuo pilota è in difficoltà, se già vedi che ha le palle girate perché la macchina non va, che cazzo lo fermi all'ultimo giro mettendolo in agitazione e facendogli fare una puttanata? Cioè, punto di domanda, io questo non lo capisco, io veramente questo non lo capisco e non lo capirò mai, perché sembra quasi, sembra quasi, e vi ripeto, e ve lo ripeto, è già il terzo video che faccio in cui, ve lo ripeto, sembra veramente che lo facciano apposta. Sembra veramente che lo facciano apposta, perché non ci sono altre spiegazioni. La gara era andata così, avevi un quinto posto, vabbè, meglio di niente, tanto ormai il mondiale è andato a puttane, ed è andato a puttane per colpa vostra e da tanto tempo. Quindi una cosa in più, una posizione in più, una posizione in meno, un punto in più, un punto in meno, che cazzo serve? Che cazzo serve? Quindi non solo non hai fatto il giro veloce, ma hai anche perso una posizione e di conseguenza hai perso punti. Che dire, ragazzi, che dire? Facciamo sempre peggio. Se si pensava che non si potesse andare peggio, se si pensava di aver raggiunto il fondo, evidentemente si è capito che la Ferrari ha intenzione di scavare. Buonasera a tutti.